Iaia Boetti, vicepresidente di LPM Banmondo V e soprattutto ex capitana, ti chiedo subito quanto ti piacerebbe giocarla una partita così? Molto, sicuramente giocare queste partite è emozionante e divertente perché poi arrivati qua ci si diverte sicuramente, quindi mi piacerebbe ma sicuramente è già una bella soddisfazione vederla, anche da vicepresidente. Ecco adesso appunto in società e in altra veste, come ti stai trovando diciamo dietro alla scrivania? Diciamo che mi trovavo meglio in campo ma ci sto lavorando anche per stare dietro alla scrivania, io sto lavorando principalmente sul settore giovanile, sono felice che le nostre pumine possano vedere e comunque partecipare in qualche modo ad una partita del genere perché hanno bisogno anche di questi sogni. Da ultimo ti chiedo, abbiamo visto uno striscione apposta per Walter Turco, il presidente che tu hai conosciuto molto bene, sicuramente anche da parte tua c'è un pensiero per lui questa sera. Beh questo è inevitabile, anche perché lui prima di chiunque aveva capito che saremmo potuti arrivare qua. Grazie, in bocca al lupo! Previ!